Provengono da 49 diversi paesi, in testa Bangladesh, Romania e India, e rappresentano il 54,4% degli occupati dell'azienda. È il composito Mondo della Fileni, terzo produttore in Italia di carni avicole, che dà lavoro tra dipendenti e indotto a circa 3.000 persone. La peculiarità dell'azienda è alla base della ricerca condotta dall'Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari della UIL, che ha messo a fuoco, attraverso il punto di vista dei lavoratori, le caratteristiche positive e le criticità del rapporto territorio-azienda e gli aspetti legati alla convivenza tra persone di etnie e culture diverse e la loro percezione dell'ambiente lavorativo e sociale. Dai 294 lavoratori intervistati nel corso del 2014, a partire dalla conoscenza della lingua italiana, che, a parte il 25% che è madrelingua, il 32% ammette di non saper leggere e il 50% di non riuscire a scrivere, la maggioranza dei lavoratori intervistati ha un basso livello di istruzione, il 69% ha conseguito l'obbligo scolastico e il 49% ha abbandonato gli studi per motivi economici. Circa un terzo degli intervistati vive in una casa di proprietà e chi non vive da solo, in media, la divide con altre tre persone, ma c'è anche chi vive in dieci sotto lo stesso tetto. Al 55% di religione cristiana si affianca il 39% di musulmani. Nonostante tutte queste differenze, prevale però un giudizio positivo nel rapporto con i colleghi, che indica in fondo una buona integrazione dei lavoratori tra di essi.